Papa, papa! Spero tu stia studiando per l'esame! Ti sto osservando! Ok, mamma! Niente più esami per me! Facciamo festa! Balliamo? Ammi! Che cos'è stato? Che cos'è? Sei in punizione! In punizione? È l'ora del bagno! Cosa potrebbe esserci di meglio? Adesso devo pulire il bate! Aspetta! È solo cioccolato! Toglilo di torno! Come farò? Ho un'idea! Funzionerà! Nella spazzatura! Cosa stai cucinando? Porta fuori la spazzatura! Ok! La via è libera! Cos'è stato? Sei tu, Ali! Torni a camera tua! Scusa, papà! Ehi, ragazza! La festa è una bomba! Cercherò di intrufolarmi! Che stai facendo qui? Mi sto allenando! È un'ottima idea! Alleniamoci insieme! Forza! E uno... Sì, mamma! Sono pronta! Oh, sì! Che stai facendo tu qui? Sono un mimo! Che cosa? Mi prenderò cura io di te? Che cosa hai in mano? Quello che hai tu! Molto bene! Ottimo esercizio! Allenarsi fa bene! Buona giornata! Grazie, papà! E' il momento dei dolcetti! Wow! Wow! Non so dove metterla! Cibo per cani! Ora posso mangiarla! Ehi, che stai facendo qui? Sto solo dando da mangiare al cane! Che cosa? Questi li devo nascondere! Nessuno deve vederli! Ehi! Ciao, mamma! Non abbiamo un cane che stai nascondendo? Niente! Non ti credo! Niente dolcetti qui! Niente dolcetti neanche qui! Dove si trovano? Porto via tutto con me! Aspetta! I miei dolcetti! No! Devo mangiare! Ordina pizza! La 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 la! Oh! Yeah! Psst! Lanciala qui! Lanciala qui! Oh! Ok! Grazie! Oh! Wow! Dove è finita la pizza? Oh no! Ops! Oh wow! Ehi, tesoro! Hai fame? No, per niente! Volevo ordinare una pizza! Oh, perché sempre a me? Oh! 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 Dove sei? Sono bloccata in casa! Oh! 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 Ehi! Che cosa stai facendo? Sì, sto solo leggendo! Oh, niente bevande zuccherate! Forza, ragazza! Oh! Shh! Oh! Aspetta un attimo! Che cosa è stato? Oh! Niente! Ti sto osservando! Ah! Il mio ultimo tentativo! Ah! Ah! Finalmente! Ah! Sono pronta! Ah! Wow! Ce l'ho fatta! Ah! Ah! Ma dai! Ah! Questa è la mia ultima possibilità! Oh! Ah! Nonna! Ah! Non osare! Ah! Oh! Oh! Sono qui! Lasciate che vi abbracci! Ciao, nonno! Mia povera ragazza! E voi due? Avete chiuso a chiave mia nipote? Non l'avete lasciato mangiare i dolci? Non l'avete fatto uscire? Ma è il momento di andare! Credete di essere! Grazie, nonno! Sei qui? Vieni dentro! Sì! Aspetta! Oh! Le chiavi! Sono pronta! Posso andare! Sto arrivando! Di nuovo le chiavi! No! Fa niente! Fantastico! No! Non pulirò questo casino! Be' Che diavolo! Lascia perdere! No! Puoi farlo dopo! Può aspettare! Posso farlo dopo! No! Ti sto dicendo! Ok! 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 Ouch! Ouch! Fermati! Ehi! Sotto il tappeto! Ok! Ho fatto! È l'ora della merenda! I miei piccoli! I cereali! E il latte! Niente latte! No! Rimettiamolo a posto! Ok? Beh! Accidenti quanti dolcetti! Oh no! Devo ripulire! Usa i tuoi calzini! Andranno bene! Tutto pulito! Ottimo lavoro! Il bucato! Ok! Ok! Sono troppo stanca per farlo! Tenete duro! Ottimo lavoro! Sì! Niente biscotti! Grazie pigrizia! Io devo andare! Oh! 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 Aspetta! Prendi questo! Buono! Buonissimo! Bella, fratello! Non azzarti! Non azzarti! Adesso riposati! Devo stirarla! No, no, no! Lascia fare a me! Non è così male! Schifo! Timmy! la tua maglia stirata devo mangiare su serio? no 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 userai questo! no 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 si che diavolo no 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 ok manca qualcosa oh buoni sì bello fratello cosa stai facendo oh mio dio timmy ripulisce questo casino ma certo non è colpa mia fratello oh wow wow Sì Ma io voglio avere un corpo muscoloso Ho un'idea Uh, sono così figo, yeah Sì, sono stanco Vai, vai Timmy, scongela il pollo prima del mio ritorno Ehi, Timmy E dai Timmy, scongela il pollo entro le 18 Mamma, fai sul serio? Fratello Fermati, Timmy Cosa stai facendo? Abbiamo ancora tanto tempo Giochiamo Ok Sì 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 Oh mio Dio, il pollo Ciao mamma Timmy, Timmy, Timmy Oggi è un nuovo giorno No No, non ti servono quelle Mamma Cos'è successo, Timmy? Aiutami Sono così stanco Ok Bello